Fervono i preparativi litorani a Torre del Greco per la riapertura degli stabilimenti balneari, quest'anno anticipata al 1 maggio. Una scelta dell'amministrazione comunale per far fronte alle difficoltà legate a due anni di emergenza pandemica. I titolari dei Lidi si stanno organizzando al meglio, ma mentre il Comune annuncia progetti futuri di rilancio del litorale, restano i disagi per la presenza di grossi cumuli di spazzatura lungo le strade. Un colpo d'occhio decisamente in contrasto con la bellezza del litorale e del panorama. Francesco Lavela, Fervono i preparativi qui in Litorania per l'apertura degli stabilimenti balneari, quest'anno anticipata al 1 maggio. Sì, quest'anno dopo grandi riunioni con l'amministrazione comunale, soprattutto con l'ufficio De Manio, devo fare un ringraziamento alla consigliera da Bernacolo perché lei si è impegnata tantissimo insieme ai dirigenti e tutto per farci aprire questo mese prima perché le nostre autorizzazioni erano al primo giugno e grazie al loro impegno apriremo finalmente il primo maggio. Questa dovrebbe essere una cosa normale, noi chiediamo la normalità, primo maggio 25 aprile perché si può iniziare questa stagione, siamo noi che ci prendiamo le responsabilità e tutto per iniziare a lavorare dopo questi due anni di grandi sacrifici. Un'apertura anticipata che quindi potrebbe andare a fronteggiare la crisi? Sicuramente, se riusciamo a fare quattro domeniche come noi speriamo, riusciamo a recuperare qualcosa perché noi prima avevamo l'autorizzazione fino al 30 ottobre, ma visto che qua turisti non ce ne sono, poi iniziano le scuole, il tempo non è bello come il mese di maggio, era inutile prolungare la stagione fino al 30 ottobre. Perché secondo lei qui i turisti non si fermano? Qui abbiamo un problema di fondo, devo dire, ahimè, l'amministrazione comunale non ci sono infopoint, non ci sono servizi di comunicazione, non ci sono servizi pubblici che portano le persone in litorale. Abbiamo questa metro che è a singhiozzo, strade e poi soprattutto spade sporche, 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 sporche. Infatti stamattina noi scopriamo via Citi dei Gasperi e via Litorania piena di spazzature. Cioè qui il servizio della nettezza urbana, siamo secondo me al terzo mondo, se andiamo nei paesi dove sono più produttivi di noi non troviamo questa spazzatura per strada. Adesso come vi state preparando? L'arenile viene pulito? Diciamo che noi stiamo facendo le corse perché dovevamo iniziare a costruire il primo aprile e ci hanno dato l'autorizzazione il 10. Comunque andiamo avanti. Il mare sta facendo anche il suo, c'è una grande erosione. Se voi vedete le immagini del mio lito dell'anno scorso e le immagini di quest'anno, stiamo almeno a due file di ombrelloni in meno. Due file di ombrellone significano più di 30 ombrelloni, siamo sui 40-50 ombrelloni in meno. Se facciamo il conto a fine estate sono grandi, grandi perdite. Comunque voi provvedete anche privatamente alla pulizia dell'arenile? Sì, noi sia come stabilimento balneare la Vela Beach Club che anche tutta la cooperativa Mare Nostrum, tutto l'anno provvediamo alla pulizia dell'arenile. Quindi cerchiamo sempre di mantenere il litorale pulito, anche se poi ci scontriamo con la situazione NU, perché noi puliamo la spazzatura che porta il mare. Loro dicono che non se la possono prendere e diventa un battibecco a chi si deve prendere questa spazzatura. Se noi giriamo sul lungomare e vedete fuori da ogni stabilimento, anche in Miramare, posso fare nome, che se andate fuori al Miramare ci sono almeno 20 bidoni dell'immondizia. Io ho la possibilità di entrarli dentro per non avere la spazzatura fuori, ma se vado sopra nel mio deposito ci sono sacchi bidoni del vetro, bidoni dell'umido, cioè siamo in questo modo un po' abbandonati a noi stessi. Ma questa problematica immagino voi l'aviate fatta presente più volte al Comune. Anche l'anno scorso abbiamo avuto varie riunioni con la NU, immaginate che noi stabilimenti balneari nel capitolato spese non esistiamo neppure. L'anno scorso è stata fatta una modifica, ci hanno detto che veniva una navetta, la navetta durante l'estate è venuta a prelevare la spazzatura, ma d'inverno è una lotta continua che io sono costretto a depositarla di fronte vicino ai palazzi. I palazzi di fronte dicono che qui non può stare, è un continuo ping pong dove mettere questa spazzatura. Al di là di queste criticità quali sono le sue aspettative per questa prossima stagione? Io personalmente come la Vela Beach Club ma anche tutta la cooperativa, cioè tutto il litorale, tutto, noi diamo tutto noi stesso per far venire le persone a mare qui a Torre del Greco, perché noi oltre che imprenditori della zona, noi amiamo Torre del Greco.